Dolci, molti dolci, tutti dolci di casa, ma con il lievito vaniglinato Bertolini, il lievito dei nostri dolci casalinghi. Lievito Bertolini, dolci fragranti, lievito Bertolini, dolci genuini, lievito vaniglinato Bertolini, dolci che rivelano la personalità di chi li prepara. Per fare buoni dolci che cosa ci vuole? Ci vuole Bertolini!